Questo viaggio in Canada era previsto perché avevamo una gran voglia di tornare a trovare Marco e sua moglie Marissa soprattutto proprio per il fatto che è nata la loro nono bimba e volevamo portare Seba in Canada per cui questo viaggio era qualcosa di previsto da un bel po'. Quando Roberto mi ha detto ma in realtà io mi sto informando un po' e non sarebbe carino portare Ermanno cioè la prima scena che mi si è parata davanti è stato Ermanno in mezzo a... Un meccanico? No, 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 forse sarebbe dovuta essere ma in realtà è stato Ermanno in mezzo ai boschi a campeggiare in Canada ed è subito stato figata pazzesca sì Poi dopo piano piano io sono rientrata nella mia vita normale a fare le mie cose eccetera e ho lasciato che prendesse in mano lui la situazione un po' perché ha il computer sempre sotto la faccia e davanti alla faccia e si è intrippato tantissimo con questa cosa e le ho lasciato libero sfogo io una cosa che ritenevo essere difficile da realizzare ma sapevo conoscendolo che poteva arrivare a farlo ci sono stati dei momenti in cui ho dovuto aiutarlo nel senso psicologico più che fattivo perché comunque è un'organizzazione che avendo una vita piena nella quotidianità è difficile esserci in due sul pezzo e quindi quando lo vedevo sfatto dall'organizzazione, dai problemi comunque che sono sorti tra i problemi di Armanno e quelli di organizzazione ho provato ad essere un po' la parte più razionale ma più anche volitiva insomma aiutarlo a fare quelle piccole scelte che poi hanno cambiato il viaggio e io la vivo come una mega vacanza di famiglia e sono contenta che sia venuto anche il mezzo perché è il nostro unico mezzo, io sono molto affezionata, per me è stato un colpo di fulmine e quindi è come avere la famiglia al completo, sembra strano ma chi ha un mezzo del genere con cui ci via tutti i giorni forse può capirlo e quindi è diventata una cosa che ci ha travolto perché ci ha travolto perché alla fine soprattutto tu comunque ci lavoravi tutti i giorni su questa cosa io no perché lavoravo eccetera eccetera e quindi è arrivata un po' come una cosa che era lunga figurati quando succederà e se succederà poi tutti i tasselli sono andati al loro posto piano piano è diventata realtà e ci siamo trovati che avevamo il volo dopo una settimana e ancora un sacco di cose da fare per quello che poi piano piano adesso stiamo realizzando che siamo arrivati, che tutto funziona perché di fatto lo vediamo perché siamo qui però è stata una cosa molto di fretta è venuta bene è cresciuta e ci ha travolti come una valanga sì perché sono quelle cose che poi dopo ti trovi a accumulare le ultime cose da fare e siamo arrivati praticamente con la gola nell'aereo e seba da preparare psicologicamente anche perché comunque si è fatto un volo lungo due voli uno dietro l'altro e va bene no sono contenta adesso piano piano entro nel mood canadese e poi soprattutto ce la faremo perché il nostro più grande sponsor è Dio ragazzi quindi God is watching us vero Zevi? a papà basta basta scevenze sì papà è un po' andato a fare di testa con questa cosa ma gli vogliamo bene lo stesso grazie 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 a tutti